Non solo linee più severe contro le tifoserie violente, il ministro dell'interno Piantedosi annuncia un giro di vite sulle priorità del momento legato alla sicurezza, ospedali ma anche immigrazione. Sicurezza a tutto campo e soprattutto presenza delle forze dell'ordine ben visibile. E' la politica del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che ha introdotto nuove misure di prevenzione e di contrasto contro ogni forma di violenza, dalle stazioni agli ospedali, agli stadi, alle piazze della Movida. La maggiore presenza di agenti indivisa aumenta il fattore deterrente e rassicura i cittadini, ha spiegato il ministro in un'intervista al quotidiano Il Messaggero. Dopo l'accoltellamento della turista israeliana, ieri sono partiti controlli a tappeto alla stazione Termini e non solo Roma. L'operazione Stazioni Sicure verrà estesa a Milano, Napoli e poi Torino, Bologna e Firenze. Stoppa le tifoserie violente e dopo gli scontri sull'autostrada del Sole ad Arezzo, tra ultraromanisti napoletani, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta alle due tifoserie fino a metà marzo. Contro la mala Movida e le violenze delle baby gang scatteranno più controlli in piazze davanti ai locali. Dopo l'escalation di aggressioni e i danni di medici e infermieri, torneranno i posti di polizia negli ospedali. La questione migrante è una delle priorità. Il Viminale conferma i primi buoni risultati, dopo l'entrata in vigore, del decreto che regola i soccorsi in mare delle ONG. Norme che non hanno minato i salvataggi a cui assolvono le forze dello Stato, ma per diminuire gli arrivi servono accordi bilaterali con Turchia, Libia e Tunisia e il potenziamento dei corridoi umanitari. Grazie. Grazie.